Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono 6 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e la Strassigna in direzione Firenze. È chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno, per altri lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade in A11, un km di coda tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. In A1 è avvenuto un incidente in uscita in Cisareggello provenendo da Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!